Pensa a Toto Wolf a proposito di questa Rosberg che parte appena dietro Lewis Hamilton. Allora Toto sei soddisfatto immagino di questa bella qualifica, una bella lotta fra i due piloti della Mercedes? Sì, molto molto satisfatta, un grande giro del Lewis, questo secondo giro della fine, secondo settore assolutamente perfetto e per noi è molto bene, prima fila. Come si diceva Spa era una pista adatta a voi, anche Monza, Spa è andata come è andata lo sappiamo, qui però volete ottenere una doppietta? Sì, naturalmente, quando si comincia la gara in prima fila è una doppietta che vogliamo ma abbiamo visto in Spa come veloce va, adesso ci deviamo concentrare per domani. E per quanto riguarda gli avversari dietro, Williams e McLaren, che hanno anche il vostro motore, pensi che potranno infastidirvi a un certo punto della gara? Sì, abbiamo visto un long run della Williams molto veloce, più veloce del nostro ieri, vuol dire che per la gara non va a essere facile. Farete un piccolo briefing tutti insieme con i piloti, con Rosberg e con Hamilton per chiarirgli la situazione, insomma, che non devono toccarsi, sono liberi di lottare duramente ma non devono assolutamente combinare guai. Non un piccolo ma un grande briefing. Ok, in bocca al lupo. Grazie, in bocca al lupo. Non un piccolo ma addirittura un grande briefing. Grazie.